Sempre meno risorse dallo Stato agli enti locali. Il Comune di Como perde 4 milioni su un bilancio di 100. In pratica una riduzione del 4% sulla spesa corrente che costringerà Palazzo Cernezzi a fare scelte drastiche. E se l'amministrazione esclude un ulteriore aumento sulla tassazione locale dopo quello dello scorso anno, questa volta a rischio sono i servizi erogati ai cittadini. Una situazione difficile spiegata ieri sera dallo stesso sindaco di Como, Mario Lucini, in diretta su Espansione TV. Tenuto conto di tutto arrivano a quasi 4 milioni. Di fatto si tenga conto che fino al 2010, forse 2011 no, forse 2010 arrivavano a Como 20 milioni dallo Stato. Adesso è Como che manda 11 milioni a Roma. Io capisco che i cittadini siano preoccupati ed arrabbiati per anche il discorso che è stato fatto l'anno scorso, l'operazione fiscale che è stata fatta l'anno scorso, ma era inevitabile. Adesso ovviamente non è nostra intenzione toccare più nulla. Rimane aperta la partita IMU ma non abbiamo intenzione di toccare le aliquote. Quindi ci sarà da verificare sui servizi quello che possiamo permetterci di erogare. Difficile dire ad oggi quali capitoli, quali servizi siano maggiormente a rischio. La coperta però è corta e un 4% di risorse in meno sulla spesa corrente potrebbe avere ripercussioni sulla possibilità di erogare tutti i servizi attuali. Un'eventualità da considerare è solo in assenza di altre opzioni, però secondo l'assessore ai servizi sociali del comune di Como, Bruno Magatti. I margini di manovra all'interno del bilancio del settore sono modesti anche perché ci sono spese obbligatorie, spiega il responsabile dei servizi sociali. Faccio fatica a immaginare quali servizi potremmo non erogare, potremmo al massimo pensare, ma diversa compartecipazione dei costi, aggiunge Magatti, pensando a quei servizi che oggi non sono interamente a carico dell'utente ma in parte vengono pagati dal comune. Ad ogni modo, conclude l'assessore, non si può pensare di partire dai servizi quando è il momento di fare economia. Prima di intervenire in questo campo bisognerebbe usare molta prudenza a maggior ragione in questi difficili anni di crisi.